Un gelese nato a Gela che lavora a Ravenna e che vive due problemi, perché a Gela lo stabilimento purtroppo sta per chiudere, a Ravenna altrettanto. Speriamo di no, speriamo di no, noi facciamo la nostra parte protestando e sperando di portare a casa anche questa vertenza. Ma si poteva immaginare un futuro così nebuloso? No, no, neanche negli scenari peggiori si poteva immaginare. Un altro gelese che lavora a Ravenna è andato via da Gela per trovare lavoro a Ravenna e ora purtroppo con le decisioni di De Scalzi lo sta per perdere. Allora, noi stiamo condividendo la giornata di oggi soprattutto come solidarietà nei confronti degli stabilimenti in crisi. Ovviamente la tenuta di tutti gli stabilimenti significa la tenuta del modello industriale del nostro paese. E' chiaro che il governo ci deve dire chiaramente cosa vuol fare dell'industria chimica, petrochimica, dell'energia in Italia. Sapendo che l'Italia non gode sicuramente di grandi fondi energetiche e abbandonare questo business significerebbe sicuramente perdere un pezzo di industria, ma soprattutto perdere un pezzo di Italia perché i nostri figli fin quando da Gela si spostano a Ravenna potrebbe essere tollerato. Oggi vediamo una emigrazione verso il nord europeo. Questo sicuramente ci fa male. Anche Livorno vive una grave crisi. Ma sta andando questa mannaia perché si pensa più al profitto per gli azionisti piuttosto che a salvaguardare l'industria e i posti di lavoro in Italia. Voi siete molto vicini ai colleghi di Gela, siete vicini ai colleghi di Porto Marghera perché le raffinerie in Italia non devono chiudere. Certamente, noi siamo vicini anche perché un domani potremo ritrovarci noi come loro, quindi noi siamo con loro. Siete compatti con i vostri colleghi di Gela? Siete compatti con i nostri colleghi perché comunque questo è un problema di tutti gli stabilimenti Eni, non solo di Gela, insomma, di tutto il gruppo Eni. E quindi siamo uniti in questa lotta e la porteremo a casa.